Anche questo probabilmente influisce sull'esperienza in sé. Quindi oggi, deve dire grazie a sua mamma, che in un certo senso è stata la complice per quanto riguarda questo suo percorso professionale. Sì. Ha fatto bene, insomma. Assolutamente. La mamma è casalinga. Sì. Io ho la fortuna di avere due genitori meravigliosi che mi sono sempre stati vicino, che sono sempre stati i miei complici, mio padre e mia madre.